Musica Ciao a tutti ragazzi e ragazze e bentornati nel canale oggi come avete letto dal titolo facciamo un po' di shopping su Pinterest e oggi facciamo shopping però dedicato al make up quindi vediamo un po' se riusciamo a trovare delle marche esclusive quindi quelle che nella realtà sono più famose tipo Jeffree Star, Anastasia Beverly Hills e tanto tanto altro e in questo video sono un po' particolare cioè ho le orecchiette viola, il rossetto arancione ma perché mi sono lasciata un attimino ispirare dalla mia maglia della Polaroid piena di colori e in più non penso metterò musichette in sottofondo perché facciamo tipo un po' uno stile Mac Bang o Mook Bang, non lo so, per questo video infatti mangerò queste patatine che sono in edizione limitata della San Carlo e praticamente queste qui sono a gusto paprika e mango quindi mangeremo insieme mentre scaricheriamo del materiale quindi iniziamo subito, andiamo su Pinterest leviamo il cellulare e scriviamo The Sims 4 make up vediamo un po' che cosa ci esce se siete nuove sul canale io ho già fatto un video in cui spiego come scaricare il materiale personalizzato come metterlo nelle cartelle e soprattutto vi ho fatto un video anche in cui vi mostro i vari trucchetti su The Sims 4 tipo guadagnare più soldini o altro però ho scoperto tanti nuovissimi trucchi quindi magari nel prossimo video vi faccio vedere un po' cosa ho scoperto ma comunque concentriamoci qui e vediamo un po' cosa c'è di nuovo intanto prendo le patatine praticamente le ho aperte poco fa, le ho già assaggiate e mi piacciono moltissimo e sono simili a quelle lì più gusto vivace ma con una punta di dolce mi piacciono però, mi piacciono abbiamo lo stick di Fenty Beauty mettiamo qui le tinte anzi rossetti liquidi di Maybelline mettiamo qui prendiamo un'altra cosa e poi iniziamo a scaricare e poi continuiamo poi 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 vediamo un po' Nyx l'Epic Incliner oddio io ho davvero quello lì lilla allora quindi iniziamo clicchiamo ok questo qui è di The Sims Resource ma dov'è mi stia prendendo in giro dove sei e vediamo cosa ha creato questa persona forse tra le sue creazioni troviamo lo stick oddio le piccole sul naso nooo beh andiamo avanti va scarichiamo questi rossetti liquidi di Maybelline la paletta di birra di Anastasia morta morta vabbè praticamente qui non mi fa vedere nulla vabbè nooo non va scarichiamo la paletta cioè fino adesso non abbiamo riuscito a scaricare nemmeno una cosa la lolita di Kat Von D ok questo almeno lo apre mmm mmm la paletta Blime Crime oppure cosa potrei prendere? il pulo del naso mmm nuove colorazioni del lip kit di Kylie intanto scarichiamo la lolita di Kat Von D che ha delle tonalità sul rosa e apriamo qui il lip kit oddio questo pazzesco questo illuminante ce l'ho però vediamo se ci apre altre illuminanti mmm il contour kit di Huda Beauty speriamo bene allora intanto qui download sì no non ci interessa mmm vediamo un po' però non so a volte mi ingazzo così all'improvviso quella è caruccia ma proviamo questa palette di Tarte ispirata al mondo sirenoso mmm questa c'entra Game of Thrones giusto per capire ho visto la palette di James Charles ma voi state seguendo tutto ciò che è successo trattati e James Charles oh mio dio raga il caos il caos totale e infine direi questi rossetti di Anastasia Beverly Hills ciao pagina si sa se il rossetto sta reggendo si dai oddio ho visto anche la norvina di Anastasia mi giuro che questa è l'ultima e poi proviamo tutto quanto sulla sim i correttori di Jeffree Star come spiega come non ho ben capito quindi raga facciamo così passo tutto nella cartella moods e ci vediamo con la nostra sim e proviamo tutto quanto per bene ok allora perfetto ho preso la e la caffettina comunque ho preso la nostra sim dedicata alla primavera aspetto che finisce il rumore e poi continuiamo quindi partiamo dall'inizio iniziamo a provare sperando vada la palette lolita di Kat Von D quindi sui toni del rosa vediamo un po' cosa ci propone posso avvicinare un po' di più no va bene scherzavo questo va benissimo con i suoi capelli oddio in realtà anche questo qui questo così così questo così così però colori bellissimi poi passiamo alla palette morphy quella lì in collaborazione con James Charles caspita questo colore è bellissimo questo questo le sta dal dio il viola mettiamo il verde acqua questo cos'è tipo grigio sì e questo qui un po' troppo spariflesciante sì caroccio questo mi piace proviamo la come si chiama midnight mermaid comunque quella di Tarty ispirata alle sirene e percepisco un ombretto leggermente shimmer quindi con pochi pochi glitter questo è abbastanza normale come toni quindi sul neutro e poi però qui abbiamo queste tre colorazioni più particolari sul lillo il celestino e sul celeste verde acqua questo qui è il colore che mi piace di più di tutti però siccome dobbiamo andare avanti col make up io direi tornare un attimino ecco questo qui per esempio e andando avanti ora dobbiamo passare al make up viso quindi abbiamo scaricato gli illuminanti vediamo un po' sì la palette contouring di Uda Beauty oh mamma ma è troppo ok questo qui già va meglio però non mi fa impazzire vediamo un po' labbra allora iniziamo con il kit il lip kit di Kylie abbiamo un nude un rosso rosa un altro tipo di rosso tipo un po' più sul fragola e questo qui che è il più bello secondo me poi per quanto riguarda sempre le labbra abbiamo questi qui di Anastasia Beverly Hills partiamo con questo ok caruccio mi piace molto questo rosso questo è pazzesco mi piace molto carino e anche questo e anche questo è bello però mi piace di più di tutti questo modifico un attimino le labbra oh mamma non così non così ok ecco una forma un po' più normale e oddio avevamo scaricato qualcos'altro per se non sbaglio i correttori si trovano nella parte dettagli della pelle vediamo un po' se ricordo bene altrimenti non solo ecco vediamo oddio troppo ok ok però magari metto questo qui e il colore della sua pelle lo faccio un pochino più chiaro ma quali i tatuaggi cosa sto combinando cosa va bene ok facciamo finta questo ecco questo è un po' più chiaro in modo che si vede questo qui così si vede che comunque c'è il correttore che va ad illuminare direi che abbiamo fatto degli ottimi acquisti su Pinterest quindi ragazzi ragazze io spero che quest'altro mini shopping su Pinterest vi sia piaciuto e noi ci vediamo al prossimo video ciao